E' molto importante l'attività del cubo perché io credo fortemente che l'università sia prima di tutto comunità e quindi da questo punto di vista ringrazio tutti i soci. E allargandolo sguardo invece alla grande comunità dell'Alma Mater, dalle studentesse agli studenti, tecnici amministrativi, professori, io posso solo ringraziarvi tutti per avermi concesso questo onore straordinario di guidare il nostro Ateneo. E' davvero un grandissimo privilegio e quindi vi porterò sempre tutti nel cuore. Poi rimango comunque, non vado via, cioè rimango, sono professore, continuo a fare ricerca, didattica, non è che me ne vado, però certo è un'esperienza che porterò sempre con me. A nomina a presidente del Cineca, certo in questo momento in cui la trasformazione digitale è una delle due direttrici dominanti, quindi una delle due trasformazioni gemelle insieme a quella green, che attraversa la società, attraversa tutto il piano di Next Generation Europe, è una grandissima responsabilità per me, ma sarà un altro posto dove ci sarà la possibilità di divertirsi. Ho cominciato a giocare a basket, non lo so se era all'età di otto anni o giù di lì, e passavo tantissimo tempo in palestra, dove ho imparato una cosa prima di tutto, il significato del gioco di squadra. La mia qualità migliore non era tanto quella dei giochi con la palla, perché ho una mano piccola rispetto ai giocatori di basket, quindi quando i miei compagni di squadra, quasi tutti i giocatori di basket tengono la palla con una mano, io non ci riesco, e questo è un problema per un giocatore di basket, però ero molto bravo nel passare la palla. Ho avuto due rettorati, un primo rettorato fino a febbraio del 2020 e un secondo rettorato dopo, è Patrick Zacchi, che è sempre di là, c'è la sagoma e anche la sagoma di Patrick Zacchi, più la coccarda che porto sul bavore della giacca da quando purtroppo è stato arrestato, in rappresentanza dei diritti umani e di tutta la comunità studentesca. Il nostro Ateneo, quello che si troverà a guidare Giovanni Molari, è un Ateneo in crescita. Sono cresciuti gli studenti, anche in maniera significativa, sono cresciuti gli scambi, sono cresciuti gli studenti internazionali, sono più che raddoppiati i fondi della ricerca, è finalmente tornato a crescere il numero dei docenti e ricercatori, e è tornato a crescere il numero dei tecnici amministrativi a tempo indeterminato, sono cresciute le start-up, gli spin-off, cioè qualunque dimensione del nostro piano strategico in questi anni è cresciuta, sono cresciuti gli investimenti. Dalla legge Gelmini, dal periodo dei tagli Tremonti, non era più accaduto, noi eravamo in una lenta e costante decrescita. Quindi, tutto sommato, un Ateneo in piena salute. Fotogrammi, la piazza di San Domenico in cui ho avuto l'onore di intervenire insieme a Papa Francesco, piuttosto che, diciamo, presidenti che ho incontrato, ho parlato di fronte al Re di Spagna in occasione degli 800 anni dell'Università di Salamanca, il grande piano di investimenti, il tantissimo atteso e inaugurazione del navile di qualche giorno fa. Se dovessi scegliere, non mi porterei con me un fotogramma, ma mi porterei con me, avete presente quelle immagini composte da tante foto piccoline, che magari tutte queste foto piccole disegnano un quadro che è il logo dell'Alma Matteo. Ringrazio il Cubo e tutti i soci per lo straordinario lavoro e le attività sportive e culturali che il Cubo porta avanti, peraltro cresciute in questi anni e spero a breve che ci troveremo anche a inaugurare la nuova sede.